Come macchina di rappresentanza noi abbiamo una Rolls Royce, ma la può usare anche il fondatore che oggi è l'amministratore delegato e prima era il presidente? Sì, è che qui non sono mai contenti, qui gli rode parecchio il fatto che qualcuno stia meglio di un altro. Io non ho nessun problema a dire che sono antifascista e anticomunista, mi fanno schifo sia gli uni che gli altri, fine di tutta la storia. Detto questo sono un liberale, ma ti fa schifo De Gasperi? No. Ti fa schifo Giolitti? No. Forse farà schifo a tutti gli italiani, ma per me no. Ed è anche stato l'unico che si è opposto al fascismo sul serio. Gurulandia! 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 Tuo podcast preferito? Certo. Non ne frega niente. Gurulandia! Gurulandia! Ma va a cagare! Eppure questo podcast spacca. Ascolta Gurulandia! Mi hai capito bene? Benvenuti in una nuova puntata. Oggi altro grandissimo ospite. Diamo benvenuto a Stefano Vandecchi. Grazie. Ma tutto grazie per averci ospitato in questa bellissima università. È enorme poi. È gigante. Se non me l'aspettavo, è venuto là fuori. Questo deve sottolinearlo che è enorme, perché tutti pensano che un'università cosiddetta erogatrice di corsi telematici debba essere uno scantinato. No, infatti, anch'io, se non sincero, non me l'aspettavo. È proprio un bellissimo... L'università per fare l'università ha bisogno di aule, laboratori, perché l'università non è soltanto lezione agli studenti, è anche ricerca. Noi abbiamo la Facoltà di Ingegneria, che è stata... Quest'anno è arrivata prima nella ricerca scientifica in ingegneria industriale. Quindi vuol dire che i nostri laboratori sono eccellenti, i nostri professori sono altrettanto eccellenti. Quindi deve avere gli spazi per i professori, deve avere gli spazi per... Poi ognuno interpreta l'università come meglio crede. Noi la interpretiamo come un vero e proprio campus. Qui ci sono anche 300 posti letto, quindi ci sono anche persone che si fermano a dormire. Bello. Hai ripreso un po' il modello americano? Guardi, più che il modello americano, ho ripreso il modello bolognese. Perché ricordiamoci sempre che mille anni fa a Bologna nascevano le università. Cos'erano le università? Un gruppo di persone curiose invitava qualcuno che aveva conoscenza di qualcosa, gli faceva domande. Poi, se le cose andavano bene c'era un grande applauto, se le cose andavano male le prendevano a calci. Questa era, diciamo, la regola dove è nata l'università di Bologna. Ma l'università è un agglomerato di studenti, è un insieme di studenti. Cioè l'università non è un insieme di professori che insegnano. E' prima di tutto un insieme di studenti che desiderano farsi insegnare, quindi conoscere le cose. I professori arrivano un attimo dopo. Poi arriva la ricerca, ma per questo servono ambienti. Quindi ecco qua noi abbiamo 54 mila metri quadri e siamo oggi, come università italiana privata, quella che ha un'estensione, diciamo, territoriale, una struttura più grande. Ma una domanda, per quale motivo lei ha questo interesse dal punto di vista imprenditoriale per l'università? Cioè perché è un buon business o perché ci sono magari altri motivi? No. Io ritengo prima di tutto che l'università, anche perché quando io ho fondato quest'università, l'università non era un business. Voi pensate, quando io ho ottenuto i permessi per fare questa università, il 10 maggio del 2006, tutte le banche che lavoravano con me mi hanno chiuso gli affidamenti. Perché tutti hanno detto che le università non saranno mai un business, per le università si rimette. Lo Stato italiano ci mette 15 miliardi l'anno, quindi le università non sono un business. Poi alcuni privati, tra cui me, che evidentemente in maniera più intelligente hanno cominciato a gestire il mondo accademico senza far mancare niente. Vi ricordo che noi abbiamo, purtroppo, quasi 2.000 rinunce l'anno, perché qui c'è gente che boccia, riboccia, riboccia. Non utilizzano il sistema didattico che noi gli offriamo, perché devo dire che la nostra università offre un sistema didattico talmente eccellente, secondo me, che oggi se vuoi realmente studiare e vuoi arrivare all'obiettivo, lo puoi fare. Perché non hai bisogno di prendere ripetizioni all'esterno. Noi gli facciamo entrare in alcuni percorsi guidati, dove lo studente chiaramente può arrivare all'eccellenza di quello che deve conoscere. Però vi faccio un esempio con mio figlio. Mio figlio fa ingegneria qua. Mi sembra che si è bocciato sette volte. Il problema è, se le cose le sai, vai avanti. Se le cose non le sai, non vai avanti. La stessa cosa è per l'altro figlio. Ho due figli che fa scienze motorie. Anche lui, mi sembra, un paio di volte si è inciampato. Il ragionamento è, qui si fa l'università. Quindi l'università deve essere, prima di tutto, un posto dove tu le cose le impari. Ricordiamoci sempre, poi, che in tutte le università private, i professori sono professori ordinari, professori associati o ricercatori. Cioè, sono professori del sistema universitario. Professore della Sapienza, professore di Milano, professore di Firenze, possono venire a insegnare qua. E i nostri professori spesso vanno a insegnare nelle varie università. L'insegnamento è libero. Il professore, sinceramente, non è troppo, anche per chi volesse fare il furbo, non è troppo ricattabile. Il professore è veramente libero nella sua funzione. Quindi nessuno lo può licenziare. Nessuno lo può mandare via. Il professore insegna, se decide che lui boccerà, centomila, boccerà. Punto. Quindi, a differenza della scuola superiore, scuole private, le università private hanno lo stesso, identico, organizzazione delle università gestite dallo Stato. I professori sono assolutamente indipendenti e, come ho già sottolineato, illicenziabili. Lei perché ha deciso di investire su un'università dal punto di vista imprenditoriale, sapendo che comunque è un campo dove è difficile essere profittevo? Allora, tanto per cominciare, io ho analizzato il livello universitario mondiale. A livello universitario mondiale, sappiate che le università sono tra le aziende più ricche del mondo. Alward arriva a circa 23 miliardi di sviluppo di fatturato ogni anno. 23 miliardi sono una cifra importantina. Ma per quale motivo? Perché nelle università si fa ricerca. La ricerca porta ai brevetti. Il brevetto porta comunque a un guadagno costante nell'arco del tempo. Le università creano il loro spin-off, le università creano il loro start-up. Voi oggi andate su Facebook, voi oggi andate su Instagram, voi scrivete su WhatsApp. Tutte queste cose sono nate all'interno delle università. Purtroppo statunitensi sono stati all'inizio delle start-up, poi sono diventati degli spin-off, e poi hanno volato in alto. Ricordatevi che non esiste niente. Noi oggi usiamo i touchscreen. I touchscreen non l'ha inventato Apple. Sono nati nelle università, da quella ricerca libera che alla fine porta a un brevetto. Apple è stato il primo a utilizzarla. Cioè ha preso e ha detto io utilizzo il touchscreen. Ancora oggi ci sono università del mondo che prendono le royalties su touchscreen, che noi continuiamo a utilizzare. Quindi voi dovete pensare che da pochissimo tempo è scaduto il brevetto, per esempio, dei catarifrangenti. Il catarifrangente per cent'anni abbiamo pagato il brevetto a chi l'aveva inventato. Ho visto che c'è un film che ci hanno fatto sull'inventore. Bello. Guardate, l'università quindi è un posto dove si creano oltretutto i quadri dirigenziali di domani. Quindi qui c'è un altro aspetto che è molto più filosofico, almeno per quanto mi riguarda. Cioè se tu vuoi creare un'impostazione mentale del popolo italiano o del posto dove vivi e tu devi formare le persone. C'è una bellissima frase che dice se vuoi mangiare domani, insomma, se vuoi fare un lavoro semplice, semina grano. Se invece vuoi vedere qualcosa di importante, semina alberi perché i frutti arriveranno negli anni. Ma se vuoi veramente cambiare il mondo e portare qualcosa di buono nel mondo, devi educare le persone. Allora quest'università ha dato a me la possibilità, io sono il fondatore, di ideare anche metodologie didattiche sistemi di insegnamento, procedure di insegnamento, assistenza verso gli studenti, creazioni di società collegate che a loro volta potessero creare posti di lavoro e benessere. Questa università è nata in 40 metri quadri e oggi ne ha a disposizione, qui 54 mila, ma in realtà ha molte altre piccole sedi in Italia, poi possediamo altri laboratori, solo la facoltà di ingegneria ha, mi sembra, 7 mila metri quadri a disposizione. Quindi voglio dire, qui a metri quadri insomma si va abbastanza avanti, ci sono altri 2 mila metri quadri a San Giovanni, insomma, voglio dire, questa è una struttura importante e oggi è usata a pieno, tant'è vero che abbiamo bisogno anche di altri spazi. All'interno di questo podcast noi parliamo spesso di business e imprenditoria. Ti chiedo, secondo te per essere e diventare un imprenditore di successo l'università è fondamentale, serve, ti aiuta? Oppure l'università ti dà una competenza e serve per trovare un buon posto di lavoro, magari creare un brevetto, non so, o quello che stava dicendo prima? Allora, io credo una cosa, noi in Italia viviamo un grandissimo imbroglio, il grandissimo imbroglio è quello di farci credere che studiare sia un dettaglio. Ora io faccio un esempio molto banale, prima di tutto siamo 8 miliardi nel mondo, l'unico che io conosco che aveva la terza media e poi è diventato un miliardario è Bill Gates. Ora su 8 miliardi, più quelli morti e quelli che sono nati, diciamo 13-14 miliardi che fanno parte della sua generazione, sinceramente non mi sembrano tanti, ecco uno. Ora, non so se uno potrà avere una botta di fortuna e quindi potrà fare grandi cose. Detto questo, io penso che se vuoi arrivare al grande successo, perché voi dovete farvi una domanda, come mai americani, inglesi, come mai questi popoli arrivano spesso al successo? A 30 anni ci sono già uomini di successo, a 27, a 32, mentre da noi ne devi avere 50, 60, se no non arrivi da nessuna parte. E tutto dipende dalla formazione, loro sono ossessionati dalla formazione, quindi tutto quello che la persona che non ha studiato alla fine potrà anche arrivare a capire certe cose, con l'esperienza, no? Ci sono molti meccanici che oggi forse potrebbero paragonarsi a qualche ingegnere meccanico, però hanno 92 anni, dopo 92 anni che lavori con i motori avrai capito cos'è un cilindro, cos'è un pistone, avrai capito l'elettronica. Quello che ha fatto l'ingegneria meccanica quasi sicuramente l'ha capito a 25 anni, a 24. Ora, dove sta... Fa la frase che hai scritto lì di... Brava, brava, bravissimo. Ma dove sta quindi l'elemento? Secondo me è fondamentale studiare, perché quello che si può fare studiando è come quello che può fare il filosofo. Difficile fare il filosofo se non hai studiato un po' di filosofia, perché domattina ti alzi e dici la stessa frase che ha detto Weber, che ha detto Young. Cioè, voglio dire, inventi una serie di cose che poi alla fine sono già state inventate. Non è che domani mi metta bene con le mani, qualcuno ci ha già pensato. Allora, prima devi conoscere delle basi, da quelle basi puoi andare avanti. Questo è il vantaggio che noi abbiamo. Voi oggi utilizzate un tablet, perché la mia generazione ha avuto la fortuna di vedere un giorno una sorta di registratore, una cassetta e quello era un computer. Ci mettevi dentro la cassetta, scrivevi su una tastiarina e avevi il computer. Ma prima ancora c'erano i perforati, cioè c'erano persone che andavano a fare il corso per fare le schede perforate. Le schede perforate si mettevano dentro un macchinario, venivano lette. Cioè, niente nasce all'improvviso. Perché se noi prendiamo oggi, che ne so, Leonardo da Vinci e lo mettiamo davanti a questo computer, Leonardo da Vinci ha una cultura dove sicuramente dopo cinque ore ha capito tutto, ma all'inizio, quando lo vede, non capisce proprio che cos'è questo. E se vede una persona raffigurata sul monitor, va a vedere dietro, dice, normale, credo. Se noi domani mattina vedessimo una macchina che vola a 40 centimetri dal suolo, saremmo tutti abituati, capiremmo come si fa. Cioè, noi vedremo una macchina che sta a 40 centimetri dal suolo. Sappiamo, per il nostro vantaggio, che esistono gli aeroplani, gli elicotteri, ma sta macchina a 20 centimetri dal suolo, insomma, ci dà un attimino di problematiche, no? Cioè, ci sembrerà strana e diversa. Allora voglio dirvi, studiare è secondo me un elemento fondamentale. C'è un ciclo di vita, non bisogna avere fretta, ormai gli uomini vivono, gli uomini, le donne, vivono 80 anni, 90 anni, la vostra generazione, presumibilmente diventare centenari sarà normale. Presumibilmente fino a 80 anni avrete ancora una fisicità, un'intelligenza estremamente importante. Oggi sappiate che un uomo di 75 anni, 75 anni, equivale a un 32 anni del 1985. Boia! Cosa è questa? Ma un'indagine la trovate anche in internet. Cioè, sono ricerche. Ma perché? Perché la sensibilizzazione, gli stimoli che abbiamo. Signore, io ho 64 anni, no? Cioè, 64 anni, non ho certo il fisico di un uomo. Cioè, mio padre a 50 anni era vecchio. E quando guardavo mio padre a 50 anni, io pensavo... Quando io ero ragazzo, si diceva, arrivate a 50 anni, mezzo secolo, sei arrivato, sei vecchio. Le donne erano vecchie, ragazzi a 35 anni, a 40 anni. A 50 anni, uomini e donne erano tutti vecchi. Oggi, signore, a 50 anni, trovate delle signore splendide, trovate degli uomini in piena forma. Oggi è difficile avere 50 anni e pensarsi vecchio, ma è difficile anche averne 60 e pensarsi vecchio. Guardate che comincia ad avvicinarsi il momento, e forse la mia generazione sarà la prima a scoprirlo, che arrivare a 80 anni, a me mancano 16 anni, arrivo a 80 anni. Sinceramente, non so come saranno i miei 80 anni, però so una cosa, che me ne mancano se arriva a 70. A meno che non prenda un albero in pieno, insomma, i miei 70 anni, o mi venga una malattia così grave, i miei 70 anni, non li vedo come una cosa impossibile. Io oggi faccio attività sportiva, tutti i giorni, io oggi lavoro 12-13 ore al giorno, faccio tutto quello che fanno gli altri, e sinceramente non mi sento oggi vecchio. capisco di poter essere vecchio, perché sicuramente la mia epicondilite, dovuta al sollevamento pesi su una panca, fa capire che i miei tendini non si sono rinnovati, e quindi sicuramente tutto ciò che ho stressato è rimasto stressato, però oggi, grazie all'integrazione, grazie alla nostra alimentazione, che farà anche schifo, però, cari signori, evidentemente vi voglio ricordare che i primogeniti morirono tutti, insomma, sta scritto, se non sbaglio, sui nostri Vangeli, sulla nostra Bibbia, perché mangiarono il grano, e quel grano, purtroppo, era un grano avvelenato, e quindi morirono tutti i primogeniti, perché il grano tenuto dentro ai silos, insomma, dentro alle balle al tempo, si avvelenava. Vi ricordo che se oggi voi, se io vi portassi una mela, che è vera, voi la guardate, e mi dite, caro Bandecchi, sta roba, ti ha dimaggia a te, perché le mele vere, non sono belle, rosse, cioè, la fiaba della mela rossa, era così eccellente, che quella mela viene disegnata, come poi, noi in laboratorio l'abbiamo costruita, e oggi noi abbiamo le belle mele, ma le mele vere, sono mele piccole, brutte, sono mele fatte male, la stessa cosa, è per tutto l'altro, vi ricordo che le carote, nascano viola, poi qualcuno, le ha fatte diventare arancioni, perfetto. Hai detto che lavori 12, 13 ore al giorno, riesci male a ritagliarti un po' del tempo libro, qualcosa, non so se hai hobby, vari, io, a me piace fare sport, quindi ho sempre fatto sport, che sport? Ma io facevo canoa, facevo paracadutismo, mi piace correre, mi piace fare palestra, mi piace tirare i cazzotti. Fa sempre paracadutismo ora? Ce l'ha più fatto di recente? non posso fare paracadutismo, per il semplice motivo, che devo pagare in fondo al mese, più di 2000 stipendi, quindi sarà meglio, non si sa mai, no, ho smesso di fare paracadutismo, da molto tempo, anche perché, fare paracadutismo, vuol dire, tutte le volte che fai un lancio, rischiai di farsi male, ma anche quando ti fai bene, un po' di male te lo fai, quindi per quanto mi riguarda, ho smesso anche di andare in moto, perché ho già una gamba più corta, 3 cm dell'altra, perché una volta in moto sono cascato, ho preso in piano una macchina, non mi sono fatto nulla, però il bacino, ti fai male la macchina, la macchina è stata buttata via, si è storta, sono quelle botte di fortuna, che nella vita devi avere, voglio dire, altre mille volte non si può fare, è un po' come il Bill Gates, cioè se ci riprovi, perché non è che uno casca di moto, è intelligente, è bravo, quindi lui sa cascare, caschi di moto, hai fortuna, non ti succede nulla, caschi di moto, non sei affortunato e muori, quindi ho due bellissime moto in garage, ma non utilizzo più la moto. Adesso ho una curiosità mia, ma per aprire un'università privata in Italia, cosa serve, come funziona, cosa devi fare, cioè chiunque può prendere? No, 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 prima di tutto lo Stato deve avere necessità di avere un servizio, sia le università private, che tante altre cose, lo Stato ad un certo punto si rende conto che da solo non ce la fa, quindi lo Stato fa un piano triennale, e dice, io ho bisogno di ospedali, io ho bisogno di università, ci sono dei bandi, ci sono dei bandi, apre un bando, dopodiché stabilisce che ha bisogno, ha fatto, vuole far nascere un'università, due università, che in quel caso sono private, sono pubbliche, ma gestire da privati, presenteranno la domanda in 10, in 20, in 30, in 100, non lo so chi presenta la domanda, lo Stato fa tutta la sua analisi, tutta la sua elaborazione, e poi decide qual è che diventa università, controlla queste università ogni anno, perché ogni anno le università vengono rinnovate nel loro permesso, e ogni quattro anni li hanno un'analisi completa, perché devono garantire la scientificità, devono garantire quello che si chiama incardinamento, cioè il minimo indispensabile per poter dire che una laurea che noi rilasciamo è una laurea riconosciuta dallo Stato italiano, quindi le università private in Italia si sostituiscano e hanno funzione di Stato nel momento in cui erogano corsi di laurea. Quante sono le università private attualmente in Italia perlomeno? Dunque, tra università cosiddette telematiche e università invece in presenza, sono 29. Ok. Sparsi un po' tutto il tempo. Sono 11 più 18. E una domanda magari, io qui sta un po' personale, quanto costa aprire un'università del genere? Tipo lei quanto ha investito? Se si può sapere. Guardi, io le posso dire una cosa, secondo me in tutte le cose serve prima di tutto l'intelligenza, la capacità del saper fare. Non ho mai visto nessun progetto riuscire, perché si parte dalla base, ho i soldi per farlo. A me questa università è costata i soldi che ho guadagnato mano a mano che facevo l'università. Quando io ho fondato quest'università, la prima cosa che si ottiene è un permesso, perché si presentano tutta una serie di documenti, e dopo di che lo Stato dice, sono idonea a che tu possa iniziare. Poi hai un triennio dove vieni controllato in ciò che fai. Io, per presentare le prime domande, ho speso esattamente, credo, non sono arrivato a 3.000 euro, compreso, no, non credo di non esserci arrivato, ho lavorato io direttamente insieme ad alcune altre persone che con me stavano realizzando questa università, erano i miei soci che a un certo punto sono usciti, diciamo, da questa operazione. Abbiamo realizzato tutto il materiale e abbiamo presentato la domanda esattamente in via Kennedy a Roma, dove c'era al tempo il Ministero dell'Università. Presentata la domanda, la nostra domanda è stata analizzata al tempo dal CUN, il CUN, il Comitato Universitario Nazionale, ha stabilito che quello che avevamo presentato teoricamente era esatto e ci ha chiesto di cominciare a incardinare i professori, cioè a presentare chi erano i professori che dovevano fare. Come vi ho già detto, i professori si possono solo prendere nel cesto dello Stato, perché i professori si debbono esattamente andare a raccogliere dove sono e è lo Stato che li crea. Abbiamo cominciato a creare quindi i nostri incardinamenti, lo Stato per tre anni ci ha controllato, controllando che ciò che noi stavamo facendo fosse rispettoso delle regole. Abbiamo cominciato a fare pubblicità e lì ho cominciato a spendere dei primi soldi, ho cominciato a iscrivere i primi studenti e abbiamo cominciato con le nostre forze, diciamo, mescolando la retta degli studenti, perché noi non prendiamo soldi dallo Stato, quindi noi possiamo solo usare le rette dei nostri studenti, quindi prendevamo la retta dei nostri studenti e pagavamo i nostri professori, andavamo avanti e così è nata la nostra università. Piano piano, primo anno fatturato, se non importa, primo anno fatturato da 500 mila euro, secondo anno fatturato da, mi sembra, 6 milioni e oggi siamo arrivati intorno ai 100 milioni di fatturati. Wow, quella crescita! Ma lei dice che per fare l'imprenditore bisogna studiare, però mi sa che l'università non l'ha fatta, quindi dov'è che l'hai imparato? No, in realtà l'università l'ho fatta. L'università? Poi non mi sono laureato. Ah, ok. Le cose sono diverse. Sono andato a fare il militare, sono andato via. A me mancavano 4 esami alla laurea in psicologia, ho smesso di studiare e me ne sono andato. Finito. Ho finito tutto. Poi non avevo in mente questa cosa dell'università, però io ho fatto l'università, ho detto che c'erano altri soci insieme a dei professori universitari. Quindi questa università è nata da me, che ho stimolato dei professori universitari a lavorare insieme a me per poter realizzare questa tenea. O da solo non avrei mai potuto realizzare. Come mai non c'è un'università che insegna però a fare l'imprenditore? Perché credo che in Italia, non c'è in Italia, perché ci sono questi corsi di business sicuramente negli Stati Uniti, sicuramente anche in Inghilterra. e sono addirittura anche settoriali, perché gli insegnano a fare business, che ne so, nella recezione, nei ricevimenti, nello sport, insomma in tanti settori. Credo che in Italia non ci sia un grande rispetto del mondo imprenditoriale. Cioè chi fa l'imprenditore in Italia mentalmente deve sapere che sarà considerato un ladro quasi da tutti. Cioè il concetto è che fare impresa in Italia è un gradino diciamo sopra andare a rubare. Cioè se vai a rubare sei un ladro e tutti sanno che sei un ladro. Se sei un imprenditore in Italia ti si sopporta un po' a stento. Tu cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole fare impresa oggi in Italia? Di non farla. Io consiglierei di andare a fare impresa da un'altra parte del mondo perché se io avessi fatto impresa negli Stati Uniti o se avessi fatto impresa in Inghilterra ma anche in Germania mi avrebbero fatto un monumento. Invece qua sei indagato tutti i giorni per qualsiasi motivo. Sei invidiato. Vedi all'inizio io ero uno che non capiva nulla perché avevo creato un'università e quindi le banche mi tozzano ogni tipo di affidamento e mi dissero fai per conto tuo. Va bene faccio per conto mio. Poi ho creato in questo in questo Ateneo un business perché di fatto ho un ottimo stipendio di fatto evidentemente faccio il mio lavoro tutti i giorni in maniera corretta pago 4 milioni e mezzo circa di euro di stipendi tutti i mesi quindi vuol dire che riusciamo a far girare questa baracca nella maniera giusta. A questo punto ci sono tutte le indagini della Guardia di Finanza dell'Agenzia delle Entrate tutti ti odiano perché dicano nonostante tu abbia rispettato le leggi c'è qualcosa che non ci piace perché in Italia non c'è mai una legge che si legge in un modo solo c'è sempre una legge che si può leggere in 75 modi diversi infatti ogni commercialista diceva che gli pare bravo ma non solo i commercialisti non contano proprio una mazza perché il commercialista può dire quello che gli pare gli avvocati dicono quello che vogliono ma soprattutto la responsabilità è tua bravo tu segui le indicazioni che ti vengano date però poi sei tu responsabile ma oltretutto c'è anche di peggio quando poi alla fine vieni cacciato e tu sei in difficoltà perché non capisci bene che cosa hai fatto in certi casi perché se tu hai rubato davvero per esempio mi posso dire che io in questo momento ho un'indagine su di me ho una riflessione che viene fatta su di me su un arricchimento non mi ricordo soggettivo cioè praticamente io scopro che potrei aver fatto nella mia vita in base a certe cose potrei aver ottenuto un arricchimento soggettivo sarebbe un arricchimento non lo so adesso no io voglio dire io adesso adesso se ne andrà a parlare non lo so non l'ho capito cioè perché normalmente tu sai che devi fare un lavoro paghi le tasse su alcune cose paghi di più su alcune cose paghi di meno c'è l'Irap c'è l'Ires ci sono dei prodotti decommercializzati cioè voglio dire esiste una serie di regole tu le segui perché non le segui tu come imprenditore io ho uno staff di circa 10 commercialisti una ventina di avvocati però evidentemente forse nessuno ci ha capito nulla perché poi arriva un giorno uno che si alza la mattina e ti mette in una condizione di non sapere che cosa hai fatto poi un giorno si arriverà a questa risposta oggi vi posso dire che sono tre anni che io sono indagato ho praticamente più di 20 milioni sequestrati ormai da un anno e mezzo ancora non ho capito qualcuno per esempio mi ha contestato per capirci questa sede la vedete voi avete detto bella università giusto la guardia di finanza la guardia di finanza l'ha contestata a suo tempo perché ha detto che un'università telematica non so per quale motivo non deve avere questa sede e quindi l'investimento di questa sede fa sì che questa sede sia una sede che crea un arricchimento sono stati però degli investimenti che hanno fatto un po' scalpore mi ha in mente Ferrari Rolls Royce sotto il nome dell'università quindi magari perché voglio dire questa sede costa 100 milioni una Ferrari costa 200 milioni ho capito però se mi permettete ci sono delle Mercedes perché vedete la Ferrari si chiama Ferrari sì però cosa se ne fa l'università della Ferrari quello è il discorso molto molto semplice noi abbiamo Automotive facoltà di ingegneria Automotive la Ferrari è una macchina di rappresentanza è una macchina bellissima è una macchina che viene messa non la mettiamo oltretutto questa università ci sarebbe da forse un'altra domanda che marginalità 40 milioni l'anno se questa università ha una marginalità di 40 milioni l'anno questi soldi li devo utilizzare certo la domanda è esiste una legge per cui l'università deve utilizzare dei soldi in un certo modo no c'è un elenco di no se compravamo questa sede avremmo fatto un errore sì se compriamo la Rolls Royce che la Rolls Royce è il nome signori oltretutto sta università come ci sono università che hanno la Mercedes serie S come macchina di rappresentanza noi abbiamo una Rolls Royce ma oddio ma la può usare anche il fondatore che oggi è l'amministratore delegato e prima era il presidente sì gli italiani odiano coloro che riescano a fare business che lo fanno bene e che alla fine ottengano dei risultati negli Stati Uniti quando noi andiamo a Dubai e vediamo parcheggiate tutte Rolls Royce per noi è normale è fighissimo quel posto in Italia avrebbero arrestati tutti cioè se non vuoi far comprare una Rolls Royce in Italia non la devi vendere una Rolls Royce in Italia se non vuoi far comprare un aereo in Italia ma che ti serve l'aereo scusate noi abbiamo o l'elicottero noi abbiamo affari in tutto il mondo noi abbiamo una Ecole in Francia noi abbiamo un'altra università con un campus in Inghilterra vi invito ad andarla a vedere nel Kent 16 ettari di campus 13.000 metri quadri completamente coperti 3.000 metri quadri che stanno nascendo andate a vederlo cioè il concetto noi abbiamo creato un'università stiamo creando un'università in Arabia Saudita stiamo creando un'università a Dubai noi abbiamo un'università a Miami ora la domanda è che ce fai con la bicicletta ognuno si sposta come meglio crede con quello che vuole però qui anche qui dobbiamo aprire un capitolo esiste una legge che dice che un'università che ha disponibilità economica debba usare per forza Air One o può anche usare un aereo privato se in Italia si proibisce l'utilizzo dell'aereo privato si fa una legge si proibisce e si dice chi amministra l'università deve andare negli Stati Uniti a piedi e io mi incammino e vado a piedi se però no perché vedete la domanda che bisognerebbe sempre porre è un'altra ma tu l'hai pagato l'Inps ai dipendenti si tu l'hai pagato lo stipendio ai dipendenti si tu hai pagato le tasse che lo Stato Italiano ti chiedeva si basta basta infatti il problema è se l'hai usato sono pubblici non è un problema aspetti perché quello che poi ti dà l'aereo quello che ti dà l'elicottero paga le tasse perché tu l'hai comprato l'aereo dell'elicottero la Rolls Royce non è stata comprata in Inghilterra è stata comprata in Italia il concessionario che l'ha venduta ha pagato le tasse sulla Rolls Royce e che qui non sono mai contenti qui gli rode parecchio il fatto che qualcuno stia meglio di un altro la domanda che ha fatto lei voglio chiudere questo argomento sulla domanda che ha fatto lei a cosa serve una Ferrari a un'università perché quando noi andiamo a Cambridge ad Oxford o ad Harvard dove la retta costa 60.000 euro o 12.000 sterline anzi 60.000 dollar o 12.000 sterline e noi vediamo che lì hanno evidentemente cose eccellenti come stadi eccellenti di proprietà piscine campi scuola perché noi diciamo solo questo è bello e non ci domandiamo cosa ce l'hanno a fare a noi la Guardia di Finanza in Italia ci rimprovera di aver avuto una squadra di calcio cioè noi abbiamo preso una squadra di calcio che stava in serie D poi per varie situazioni siamo arrivati in serie B a noi viene rimproverato di avere una squadra di calcio in serie B dove sta scritto che le università non dovrebbero avere una squadra di calcio oppure ci mettiamo un bel limite cioè diciamo che le squadre di calcio delle università facciamo una legge possono arrivare solo a quale categoria la serie D alla serie C perché non è che ti puoi svegliare domani mattina perché faccio un esempio noi abbiamo una squadra femminile di serie B che potrebbe rischiare di andare in serie A femminile adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo venderla perché se vale per la squadra maschile vale anche per la squadra femminile quindi come mai le università che voi vi ricorderete che c'è il CUS il centro universitario studentesco che l'hanno inventato a fare il CUS se poi evidentemente non si può finanziare lo sport ma poi l'università Nicolò Cusano finanzia anche l'atletica leggera perché la libertà su Nicolò Cusano Livorno prende 300 mila euro l'anno da noi questi soldi li possiamo spendere o non li possiamo spendere per fare sport perché dice ma non è collegato direttamente al vostro studente allora dobbiamo domandarci cosa può fare un'università e cosa non può fare ma non mi si può dire a me che quello che ho fatto è sbagliato perché ho ottenuto successo perché se io fossi fallito non sarebbe venuto nessuno qua a dire quello che hai fatto è andato male ti diamo una mano guardate ragazzi questo è il principio democratico dell'essere liberali ecco perché io ho fondato un partito per essere liberale perché la mentalità italiana non vi porterà da nessuna parte come mai la scelta poi di vabbè ora poi non voglio che si entra a questo discorso ci si allunga però brevemente da quando è arrivata quella scintilla quel qualcosa detto ok scendo anche in politica apri un partito mio come mai guardi io faccio politica da quando ho 15 anni ho sempre fatto politica soltanto che alla fine avevo delle priorità pensando che la politica fosse purtroppo sbagliando destinata a chi non capiva la mazza cioè se non capivi una mazza anziché lavorare e fare cose serie e realizzare qualcosa di importante potete fare il politico quindi nella mia vita io ho sempre finanziato la politica perché senza politica non si campa cioè se voi oggi avete vostri coetanei in numero scarso è colpa della politica se nel 2050 voi sarete in Italia 49 milioni è colpa della politica se scoppierà la terza guerra mondiale è colpa della politica cioè la politica signori gestisce tutta la vostra vita no è colpa della politica o di qualcosa di più grande no è colpa della politica perché non sono le politiche monetarie tante cose per cui la gente non fa più figli è colpa della politica è colpa della politica sì però non penso della politica italiana cioè quello che voglio dire non è che queste cose le decidono più le banche centrali no perché scusi la banca centrale è colpa della politica cioè tutto ciò che evidentemente esiste fa sempre colpa della politica perché se lei parla della banca centrale no? parliamone la BCE sì la BCE non è una banca che risponda alla politica perché non risponda alla politica perché chi ha creato l'Europa ha creato la BCE fuori dallo Stato europeo allora già ha fatto una minchiata ma chi l'ha scelta? la politica allora la politica facette sbagliate per quale motivo? evidentemente per qualche interesse come mai ogni euro che viene stampato noi lasciamo dei centesimi alla BCE? allora non prendiamo questo argomento ma la politica gestisce questo negli anni 80 quando una donna lavorava gli veniva detto in Italia eh figa mia se lavori non puoi fare figli perché o fai la mamma o lavori siamo stati l'unica nazione del mondo tra le poche nazioni del mondo non certo l'hanno fatto gli Stati Uniti che continuano a crescere non certo l'hanno fatto i cinesi dove le donne hanno sempre lavorato e continuano a crescere non certo l'hanno fatto gli inglesi ma noi in Europa e noi in particolare in Italia dato che siamo ormai il popolo più vecchio del mondo abbiamo deciso che la donna o lavoravano o facevano e abbiamo fatto una serie di leggi punitive quando una donna resta in Stato interessante prende lo stipendio per sei mesi dopodiché gli togliamo lo stipendio e secondo quanto tempo mancherà gli togliamo anche il lavoro allora le voglio dire la politica fa determinate scelte quindi io mi sono sempre occupato di politica non direttamente ho sempre frequentato gli ambienti politici alla fine un giorno ho capito che c'era qualcosa che non andava perché negli ultimi 30 anni cari signori miei questa vostra Italia era la quarta potenza industriale del mondo oggi siamo oltre la sedicesima quando io pensavo al mio futuro alla vostra età io pensavo che saremmo stati potentissimi oggi voi sappiate che nel 2070 e voi sarete ancora vivi questa nazione sarà dietro all'Etiopia sarà dietro al Brasile sarà dietro a una marea di nazioni all'Algeria cioè cose impensabili in questo momento questa cosa quindi va cambiata perché è successo questo perché abbiamo perso la classe politica dopo Tangentopoli la classe politica italiana è diventata acquetta e mano a mano che si va avanti è sempre peggiorata cioè io oggi se dovessi elencarvi un politico lei ha votato Giorgia Meloni l'ultimo ho votato Giorgia Meloni ho votato se ne pente o è soddisfatto se non me ne fossi pentito non avrei fondato la Ternia Popolare e non mi sarei messo a fare una campagna elettorale brutta e direi pesante e non avrei conquistato il comune di Terni proprio battendo Giorgia Meloni perché il ragionamento è per me oggi la destra non rappresenta più quella destra liberale che io concepisco oggi c'è una destra sociale che per me assomiglia molto al comunismo e quindi io che sono un antifascista un anticomunista non sopporto proprio l'idea né di né di un comunismo né di una sinistra sociale che se mi permettete stanno spalla a spalla tutti i due con gli stessi atteggiamenti cioè fanno le lemosine ci fanno campare da poverelli ci levano il cervello ci cominciano a venire a dire e ci mettono in testa che come mai c'è la Ferrari stop ma quindi non si possono comprare le Ferrari in Italia è vietato cioè praticamente voglio dire rubare e comprare Ferrari è la stessa cosa perché pare di sì tanto è vero che se hai una Ferrari e cammini per strada ti fermano 40 volte e ti cominciano a vedere che documenti c'hai cosa c'hai dove vai perché eccetera eccetera allora questa politica va cambiata io sono un giolittiano sono un decasperiano io sono un liberale sono un popolale liberale cioè per me lo Stato deve fare l'arbitro dopodiché voi dovete fare imprese e diventare miliardari e non è un peccato se voi diventate miliardari perché aiuterete qualcuno che invece muore di fame oggi invece sappiamo che in Italia la povertà è aumentata del 5% e ci abbiamo 6 milioni di italiani poveri questo è drammatico si vede la presidenza del Consiglio in Fusino guardi io non sono un grande lavoratore rispetto a quello che sembra ho sempre lavorato per obbligo perché sin da bambino avrei voluto non fare niente dalla mattina alla sera dopodiché mi sono messo a lavorare mi sono messo a creare le cose e tutti i giorni mi crea un impiccio in più perché facendo oggi politica certamente e lo dico con sincerità non penso di essere meno di Conte non penso di essere nemmeno meno di facciamo degli elenchi chi? Lameloni Lameloni sinceramente io la conosco personalmente la conosco da tempo brava ragazza persona molto capace però insomma voglio dire non mi sembra che sia una mia concorrenza sei detto Silvio Berlusconi? Silvio Berlusconi era un uomo che io ho molto ammirato ho molto parlato con Silvio Berlusconi lui mi consideravo un amico io lo consideravo sicuramente un padre un maestro e tutte le volte che firmavo una lettera che mandavo a Silvio Berlusconi la firmavo con il rispetto dell'allievo verso il maestro però Silvio Berlusconi è morto e quindi siccome Silvio Berlusconi è morto oggi non c'è Silvio Berlusconi certamente Silvio Berlusconi rappresentava un'idea liberale però intorno a lui c'erano persone che non rappresentavano un'idea liberale faccio un esempio voglio dire conosco Tajani da molti anni non Tajani non ha mai nascosto di avere un'idea monarchica quindi detto questo voglio dire adesso non è che io però ognuno c'è qualcuno che si sente evidentemente più fascista ognuno si sente in un certo modo se non ce la fai a dire che sei antifascista vuol dire che evidentemente qualche similitudine c'è di avere io non ho nessun problema a dire che sono antifascista e anticommunista mi fanno schifo sia gli uni che gli altri fine di tutta la storia detto questo sono un liberale ti fa schifo De Gasperi no ti fa schifo Giolitti no forse farà schifo a tutti gli italiani ma per me no ed è anche stato l'unico che si è opposto al fascismo sul serio sei monarchico? no ma potresti pensare assolutamente no quindi io mi vedo come presidente del consiglio perché penso che i presidenti del consiglio che abbiamo avuto fino ad oggi guardate banchieri e bancari compresi perché c'è una differenza tra un banchiere e un bancario e quindi anche qui io voglio essere cattivo noi abbiamo avuto un presidente del consiglio che era un bancario non un banchiere perché se domani mi mettete in mano la banca d'italia non è che io divento un banchiere divento un bancario di elite evidentemente qualcuno si è scordato tutta la vita di Draghi a 360 gradi Draghi ha venduto tutti i gioielli italiani negli anni 90 ora sta vendendo il nostro residuo di gioielli dopodiché non so cosa avremo noi cioè forse fra un po' venderemo anche il nostro esercito perché forse non è strasegendicamente ma tu ti metti in contraposizione con Draghi Draghi è un umano è un uomo Berlusconi lo mise prima in banca d'italia Berlusconi poi lo fecero andare alla banca centrale cioè signori voglio dire è un uomo come tutti gli altri anche a voi se qualcuno vi mette una mano sotto il culino e vi porta avanti diventate famosi noi in Italia vi siete mai accorti che abbiamo sempre gli stessi manager sempre gli stessi amministratori che passano dall'Italia a Leni cioè vi siete accorti che non c'è mai uno nuovo sono tutti che si girano intorno ci sarà un perché voglio dire la politica fa anche questo perché la politica fa le nomine allora chi nomina la politica persone di successo può darsi nomina persone ubbidienti può darsi scegliete voi ognuno si deve fare una ragione io penso che nomini persone ubbidienti e quindi ho deciso di fare politica perché a me servono le persone in gamba la frase che ho detto io candido anche un cammello se ce ne ha bisogno è proprio la frase che risponde a questo tipo di meccanismo io candido l'intelligenza a me non interessa che cos'è una persona se è bello se è brutto se è grasso se è magro se è uomo se è donna a me interessa che sia intelligente sia intelligente vuol dire che ci darai evidentemente delle possibili chiaro stiamo in chiusura volevo un'ultima domandina un attimo al volo perché mi interessa non so se hai visto a Pioltello cioè una scuola che ha deciso che rimarrà chiusa per la fine del Ramadan ok voglio sapere allora voglio essere chiaro penso che noi abbiamo le nostre usanze e credo che noi dobbiamo mantenere le nostre usanze e non accettare le usanze degli altri a meno che evidentemente la nostra nazione non cambia radicalmente su questa scuola ho da dire una cosa qualcuno mi ha fatto presente perché io ho detto che per me è una bischiarata questa però mi hanno fatto presente che chiuderanno solo per un giorno non per un mese quindi chiuderanno l'ultimo giorno della maggiore comunque non era mai successo non era mai successo ora però voglio dirvi una cosa la scuola ha una sua autonomia anche qui voglio essere un liberale e voglio esserlo fino in fondo la scuola ha una sua autonomia ha dei giorni che può gestire per conto suo per me è una cazzata ma se il preside di quella scuola decide di chiudere sta nella sua perfetta autonomia e se come dice lui ha 27 bambini su 30 che sono musulmani evidentemente quel giorno li può far stare a casa insieme ai genitori punto detto questo io non ho chiuso mai la mia università ci sono i crucifissi all'interno di questa università e qui c'è la cappella l'avete vista quando siete entrati per quanto mi riguarda se ti iscrivi in questa università che si chiama Nicolò Cusano che era oltretutto un grande illuminato ma era sempre un prete detto questo vuol dire che rispetti le nostre regole qui ci sono dei musulmani che studiano con noi noi facciamo lezioni anche il venerdì quindi loro vengano a lezioni anche il venerdì e viviamo tranquilla armonia viviamo tranquilla armonia anche perché guardate il mio avvocato è un musulmano è un somalo è il mio avvocato penalista è il mio avvocato principale non ho mai avuto da discutere con lui se non che quando andiamo a tavola si rimette a mangiare una fettina di maiale lui non la mangia però questo è un problema diverso questo ci ha sempre permesso di essere anche ottimi amici oltretutto è un professore che insegna all'interno di questo di questo ateneo quindi per me che lui sia musulmano e io sia cristiano ha poco valore poi ci sono gli estremismi sugli estremismi si apre un capitolo completamente diverso inaccettabile vorrei fare una domanda non so se ci stiamo col tempo però qui davanti ci sta un miliardario soprattutto in Italia dico in Italia è più difficile penso che diventare un miliardario in America ma io non sono ancora un miliardario vabbè sulla carta Iervolino bravo Iervolino è un miliardario perché ha venduto la sua università e ha incassato un miliardo e tre io invece non l'ho venduta all'università ma tutti i miliardari sono miliardari su carta dai cioè non è che c'è uno che ha un miliardo in banca lo può anche avere però sono miliardari te sei partito proprio da zero completamente si può ripercorrere un attimo una storia che ci si fa in 5-10 minuti è una cosa molto semplice io sono nato a Livorno quartiere Shanghai sono nato in un quartiere poverissimo mio padre faceva il camionista mia madre faceva la massaia poi trovate certe situazioni voglio dire imbarazzanti dove i carabinieri ci portarono a casa mio padre da piccoletti ha deciso ora li riporto tutti al paese da dove venivano siamo andati a vivere a Colle e Servetti dintorni lì ho fatto le mie scuole lì ho fatto praticamente fino alle scuole medie dopodiché ho fatto molto sport nella mia vita ho cominciato dalle scuole medie a fare atletica leggera facevo fondo e mezzo fondo quindi ho un fisichettino asciutto mi piaceva correre correvo anche molto bene ho ancora alcuni record se non sbaglio record provinciale a Livorno dei 2.000 metri e è mio e quindi vabbè ho fatto diverse cose poi ho fatto il militare sono partito militare e a 18 anni sono andato via da casa perché avevo i capelli lunghi fin qua e allora mio padre non supportava i capelli lunghi e mi disse o ti fai i capelli o te ne fai e io me ne andai e poi farmi i capelli una settimana dopo perché dovevo trovare un lavoro per mangiare e nessuno mi assumerò con questi capelli detto ciò ho fatto il militare l'ho fatto per un po' di tempo ho fatto il paracadutista l'ho fatto direi molto bene ho partecipato alla missione in Libano e ad altre missioni detto questo mi sono poi congedato e sono ho cominciato a fare l'imprenditore ho cominciato a fare il rappresentante quindi a intraprendere su me stesso l'azienda per la quale lavoravo è fallita all'improvviso un agosto e io ho detto non lavorerò mai più per nessuno e ho cominciato a lavorare per me stesso ho lavorato per me stesso e ho fatto una serie di cose che poi alla fine piano piano mi hanno portato a poter accumulare quel poco denaro almeno arrivare a quei 3.000 euro che mi sono serviti per fare la domanda ma qual è la cosa che è andata meglio in quel periodo a livello di business? io gestivo già nel 1997 una società che si chiamava Universitalia e che aveva 8 milioni di euro in euro 8 milioni di euro preparazione per gli esami preparazione per gli esami universitari poi ho avuto una società che si chiama Delta Security System faceva impianti d'allarme poi una casa editrice che si chiamava Edizioni Winner insomma ho avuto parecchie cose dopodiché la società Universitalia come gli ho detto poi ho fatto domanda per questa università avevo una società di costruzione che si chiama Ugo Immobiliare che costruiva quindi appartamenti e case voglio dire qui con questa università e con tutto quello che ci ha collegato sono arrivato ai vertici forse dell'impresa nazionale ma me la cavavo già abbastanza bene perché diciamo che fino a 40 anni ho sofferto molto da 40 anni in poi ho cominciato a guadagnare i milioni di euro ma una domanda scusi a nome della curiosità arrivato a questo punto no miliardario perché si continua a caricare di responsabilità di stress e non smette magari vendere l'azienda cioè cos'è che la motiva perché vede sono mentalmente un morto di fame sono rimasto un povero sono rimasto uno che esce di casa con oggi credo non avevo manco sordi in tasca perché ho messo benzina non l'ho potuta pagare e e dava l'orologio si gli volevo l'orologio insomma e ma meno male che mi conoscevano cioè sono rimasto sono rimasto un povero mentalmente sono rimasto una persona che crede che deve lavorare non riesca a stare fermo mi sento in colpa quando non lavoro se vado in vacanza sto in colpa faccio due settimane di vacanze l'anno quando riesco a farle se no normalmente una lavoro anche in vacanza lavoro sempre lavoro sempre non esiste una sabato e domenica mi sento veramente in colpa mi sembra mi sembra mi sembra normale mi sembra normale dover lavorare e dover fare sento che ormai ho pochi anni a disposizione e credo di dover fare ancora tantissime cose mi piace fare non vi dico dove ma ho fondato un'altra università importantissima con la facoltà di medicina con la facoltà di odontoiatria biologia perché non ci dice dove? perché l'ho appena fondata è appena fatta farà scoppiare dei casini a livello nazionale inauditi quindi voglio dire aspetto ho portato in Italia un'università somala e questa università somala ha medicina voi sapete che in base a delle leggi che sono del 1963 fatte nel 61 20 giorni dopo la mia nascita io sono nato il 4 aprile quindi non potranno accusare me perché a 20 giorni non credo di avere fatte io però ho sfruttato queste leggi che sono del 61 arrivano nel 63 oggi come sapete c'è un grosso revival dell'Africa c'è il piano Mattei e io ho portato in Italia questa unica università che è nata in Somalia dove in Somalia ho anche una fabbrica che lavora il pesce che sta per partire una fabbrica milionaria è una cosa una marea di novi come viaggia lei comunque viaggia lei a me piace piace fare cose mi piace creare posti di lavoro prima di andare via fatevi un giro in garage sotto da noi in garage voi vedrete che i miei dipendenti i nostri dipendenti hanno delle belle macchine cioè hanno potuto cambiare una macchina la macchina è nuova non è una macchina preistorica hanno se andate a vedere hanno comprato casa fanno figli qui c'è una densità di nascita di figli a prescindere dai soldi la politica è importante chi le mamme di qua dentro non hanno mai perso il posto di lavoro le mamme di qua dentro hanno preso sempre i soldi tutti i mesi nessuno gli è mai mancato nulla io sono felice quando nasce un bambino perché scusate lavoro o business principale è un'università per la Cusano è l'università vuol dire che devi essere contento che nasca un bambino normale signori questo è un popolo di vecchi il giorno che invecchierà andranno le case di riposo però vi voglio illuminare andranno le case di riposo per voi che non avranno senso voi dovete fare figli se non farete figli voi siete poveri se no anche l'Inps è buona vabbè l'Inps signore ha già 60 milioni di buco non pensate che possa c'è il problema signori dovete vedere dovete vedere il proseguimento come una ricchezza ricordatevi che la prima cosa che fa sviluppare un popolo e lo fa crescere è l'aumento della popolazione questo vale proprio in economia come prima regola tutti i popoli che diminuiscono la loro popolazione sono popoli che entrano in crisi perché? perché hanno un sistema che manteneva 60 milioni se in 25 anni arriva a 50 crolla il sistema e crolla su tutta la linea cioè voi non potrete aprire un'azienda dice perché? perché non troverete personale chiaro grazie Stefano grazie mille grazie mille di tutto noi in chiusura facciamo sempre un giochino botto e risposta quindi io dico una parola o un'altra senza motivarla devi sceglierne una va bene? sei pronto? allora Cruciani o Parenzo? Cruciani Terni o Livorno? Livorno ricco e impopolare o povero e famoso? ricco e impopolare destro o sinistro? destro Rolls Royce o Ferrari? vanno bene tutte e due Rolls Royce pizza e birra o ristorante stellato? pizza e birra meloni o calenda? meloni soldi o sesso? sesso aborto a favore oppure no? a favore matrimonio gay a favore oppure no? a favore adozione gay a favore oppure no? a favore cannabis a favore oppure no? a favore l'ultima cirioli alla ternana o cacciucola di volonese? cacciucola di volonese grazie mille a Stefano grazie davvero è stato un piacere immenso bellissima intervista e noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti grazie a tutti non mi riesco non mi riesco a fare una donna dentro delle camera ma non sto scherzando sto scherzando perché uno dei nostri migliori tecnici sono fatte una gran bella ragazza che andava in video che invece si è messa a fare radio grazie a tutti